Nei prossimi giorni faremo un intervento preciso e faremo delle cose importanti e chiariremo questa vicenda, ma non c'è nessun motivo di preoccupazione, anzi vorrei dire che noi abbiamo messo in sicurezza l'azienda, siamo riusciti a metterla in sicurezza proprio in questo periodo, adesso in settimana nomineremo il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio di Amministrazione, io farò un punto stampa preciso, appunto per dare sicurezza, garanzie e serenità alle lavoratrici e ai lavoratori, abbiamo puntato su quell'azienda, l'abbiamo rafforzata, siamo l'unico esempio italiano che ci viene riconosciuto come percorso di ripubblicizzazione dell'acqua, abbiamo fatto ricorso contro la Gore insieme ai movimenti, adesso finalmente daremo una presidenza forte, tutte cose di cui parleremo in settimana, ma bisogna stare tranquilli, non ci sta nessun depauperamento dell'azienda, nessuna sottrazione, anzi è un'operazione che l'assessore Palma sta seguendo personalmente insieme agli altri assessori per mettere in sicurezza, rafforzare e dare garanzie di un futuro importante e serio all'azienda di diritto speciale su cui noi ci abbiamo messo la faccia, quindi certamente non pensiamo né di fare errori né di metterle in condizioni di difficoltà, in settimana ho intenzione di fare un punto definitivo appena nomino la governance, appunto entro venerdì, quindi poi faremo un punto stampa.